E se quelli, che si fa? Fucilateli. Capitano, nella lettera c'è scritto che bisogna risparmiarne uno. Lo sa, c'è un Benedetti, è una famiglia un po'... E qual è? Questi si sono rifiutati di darci il loro nome, neanche con le volte. Peggio per loro, andiamo. Tenete, se se ne può salvare uno, io ci troverei. Io ce l'ho il mezzo per riconoscere là, in mezzo a quei glebani, chi è il Benedetti. E come? Alzatevi, su! Alzatevi, che ci ammazzano davvero. Giratevi, su, girati! Questa è troppo grossa, è troppo grossa. Ci ammazzano davvero? Troppo grossa. Le mani, fammi vedere le mani. Le mani? Le mani, così. E le mani. Le mani. Le mani. Il quinto a destra. Fuori! Qui, Massimo Benedetti, qui! No! 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 Grazie.